Buon pomeriggio a tutti gli amici di Telegolfo e di Sport Casertano.it per questo incontro valevole per la sesta giornata del campionato di eccellenza Campania Girone A 2018-2019 si affrontano qui a Santa Maria Capua vedere allo stadio Mario Piccirillo il gladiator e la putiolana due delle squadre che fino adesso non hanno rispettato le attese dei propri beniamini, dei propri tifosi, le squadre stanno per scendere in campo poco fa l'omaggio della società sammaritana a Eugenio Babin, uno dei protagonisti purtroppo del crollo del ponte di Genova e sopravvissuto insieme alla compagna. Noi invece ci apprestiamo ovviamente dopo un abbraccio a un tifoso sammaritano acquisito ci apprestiamo a fare la telecronaca di questo match importantissimo adesso il saluto delle delle squadre ai tifosi nutrita anche la rappresentanza dei tifosi putiolani al seguito della compagine allenata da Troise che ha sostituito in settimana Pierfrancesco Livi uno dei tra l'altro degli ex sarebbe stato un ex qui al piccirillo andiamo subito con la lettura delle formazioni il gladiator si schiera con De Lucia tra i pali, Landolfo, Lombardi, Vitiello, Caccia, Viglietti, Di Paola, Pesce, Spilabotte, Cerrato e De Rosa. Capitano ovviamente Vitiello in panchina agli ordini di Giovanni Sannazzaro ci sono Merola, Manzi, Andreozzi, Canale, Bottiglieri, Celio, Di Pietro, Zauco e Capobianco per la putiolana invece Marino, Canzano, Bianco, Loiacono, Liccardi, Rinaldi, Manna, Gargiulo, Roghi, Puccinelli, Castagna in panchina Salineri, Catalano, Spavone, Dadamo, Spurio, Fammiano, Serrano, Vasapollo e Ileano dirige l'incontro l'arbitro Michele Palomba di Torre del Greco coadiuvato dagli assistenti Raffaele Ceceri di Caserta e Francesco Balzano di Torre del Greco. Siamo pronti ormai per l'inizio di questa gara. Tra poco il direttore di gara darà il via alle ostilità ovviamente tra virgolette ci auspichiamo che questa sia una gara corretta ma le due formazioni in campo si giocano molto la putiolana praticamente deve dimostrare al nuovo tecnico di avere quella grinta che anche i tifosi in settimana hanno chiesto sia ai giocatori sia alla società preseduta dal presidente Carmine Franco mentre invece il gladiatore che si è preso a battere il fischio d'inizio deve dar seguito ai due risultati consecutivi quattro punti nelle ultime due gare di campionato più la vittoria in Coppa Italia quindi un gladiatore che è un po' rinvigorito rispetto alle battute iniziali di questo campionato intanto la gara è partita la putiolana subito rinvia in avanti intanto do il il benvenuto a chi sarà la seconda voce di questo di questa telecronaca ovvero Domenico Vastante ha detto stampa del gladiator e anche giornalista di sport casertano.it Domenico un'impressione prima di che la gara entri entri nel vivo che partita sarà questa secondo te il gladiatore cosa deve fare per battere i putiolani? Allora Marco ti ringrazio per il benvenuto e do un saluto a tutti quanti gli spettatori di telegolfo e di sport casertano.it allora una Marco gladiatore putiolana 1902 è una partita comunque che ha tante tanti ingredienti e che può avere risvolti importanti per la classifica considerando quelli che sono stati i risultati della mattina con la pragolese che la cavolista che ha pareggiato con il punteggio di 0 a 0 a San Giorgio e infatti è stata svalcata da Afronapoli e Frattese e il gladiatore grazie a una vittoria si porterebbe a 10 punti quindi a soli 3 punti a soli 3 lunghezze dal primo posto e però come il gladiatore spera anche la putiolana che al momento è a quota 8 punti e con la vittoria si porta a quota 11. Assenze importanti da una parte dall'altra perché nel gladiatore venga l'attaccante principe Vincenzo Riccardi e poi anche Saccavino mentre nel nella putiolana sono squalificati due ex importanti all'incontro che sono Mario Terracciano e Roberto Guadagnolo e invece l'altro ex in campo sta giocando e si tratta di Francesco Puccinelli Marco sarà una partita che di sicuro è attesa da tanti da tanti abbiamo visto comunque un bel numero di un bel numero di persone e perché comunque è una gara che il gladiatore ha bisogno di vincere dopo aver pareggiato ad Afragola in in rimonta e la putiolana invece deve deve dare seguito a quel gol arrivato all'ultimo secondo contro l'Albanova che ha permesso di mantenere in tatto l'invalidità casalinga con il pontice di due contro contro l'Albanova. E' un altro Vincenzo Riccardi qui assegnato però difensore di ruolo dicevamo ex l'unico in campo praticamente è Puccinelli ricordiamo due stagioni al gladiatore 19 presenze totali due reti per il centrocampista ora in forza alla compagine Granata stavamo vedendo un attimo intanto le disposizioni in campo diciamo 4-4-2 possiamo dirlo per la putiolana mentre il gladiatore con il consueto 4-3-3 questa è una partita dicevamo importante perché il gladiatore non ha rispettato proprio tutte le attese della vigilia ha avuto qualche difficoltà ma sta piano piano risalendo la china adesso c'è un pallone recuperato a centrocampo che servizio perderosa in profondità spazza in fallo laterale la difesa di mister Francesco Troise ricordiamo fratello di Emanuele che ha vestito anche la casacca del Napoli in passato adesso c'è pesce che cerca di conquistare un angolo non lo fa e c'è una rimessa dal fondo molto furbo il giocatore ospite in tenuta Granata il numero 7 Manna che anzi è il numero 10 Puccinelli proprio Francesco che ha fatto carambolare la sfeda sulle gambe del numero 8 del gladiatore e adesso ci sarà una rimessa dal fondo si perde un po' di tempo per il rinvio cerca un compagno che però non riesce ad agganciare il portiere Marino e quindi rimessa per il gladiatore che subito riparte con Vitiello poi dopo c'è un intervento duro ai danni di De Rosa l'arbitro non segnala quindi si riprende sempre con una rimessa laterale ancora una volta Vitiello si va a prendere la sfera poi serve De Rosa che cerca un filtrante ma fa buona guardia la difesa della della Putiolana siamo giunti al quarto minuto in questo momento non ci sono ancora grossi brividi le squadre stanno ancora cercando di studiarsi il terreno di gioco che appare in buone condizioni così come una bella giornata qui a Santa Maria Capovetere adatta per per giocare al calcio diciamo adesso c'è Pesce che cerca di recuperare un pallone a centrocampo ma è Puccinelli che lo recupera lo difende e cerca di impostare verso i compagni ma c'è Viglietti che recupera un buon pallone prima di perderlo per ai danni per merito di Gargiulo Gargiulo serve Roghi ricordiamo ancora due gol si butta a terra in aria cerca un contatto che non viene ovviamente ritenuto irregolare dal direttore di gara il gladiato cerca di ripartire dovrei non conquista però un fallo laterale Domenico la putiolana si sta cominciando ad affacciare dopo un avvio abbastanza diciamo di studio Roghi è il giocatore che più può far male al gladiator è un peperino di un metro e settanta settanta però comunque che ha grande forza e comunque è un si butta sempre molto negli inserimenti e comunque ha dato una buona tecnica e lui che può essere la principale spina nel fianco del del gladiator dopo deve essere anche guadagnolo l'ex ma è assente Marco ritorno su un concetto che è espresso prima il campo è in buone condizioni anche per cui il gladiator da diverse settimane ormai non fa più allenamento a Santa Maria Capoletra ma fa a casa bulla proprio perché si deve preservare il manto erboso e solamente nel caso di amichevole oppure comunque di rifiniture si utilizza il Mario Vicirillo poi è una giornata che mente bella con quasi 28 gradi e manca anche la serie A questo comunque è un particolare non da non sottovalutare infatti comunque abbiamo allo stadio 700 quasi 800 persone e questo comunque è importante avere una sfida di un big match del Gironia di eccellenza. Domenico anche perché alla luce dei due risultati utili che il gladiator ha conquistato nelle ultime due uscite quindi un gladiator che sta si sta rilanciando attenzione adesso ci prova il numero d'ome spila botte c'è una deviazione del numero sette manna quindi il primo calcio d'angolo arriva al sei minuti e mezzo praticamente sul cronometro per i nero azzurri ed è anche il primo tiro dalla bandierina della della gara vediamo sotto la nostra postazione troise che praticamente va avanti e indietro e c'è un altro un altro angolo a noi ci pareva più calcio d'angolo però l'arbitro ha optato per la rimessa dal dall'out adesso messa in mezzo a pesce una una palla sulla quale non riesce ad arrivare nessun giocatore nero azzurro e c'è l'andolfo che si impegna a rimettere il pallone in campo poi c'è il tentativo di spila botte di andarsene al dalle grinfie del numero tre bianco nella puttura d'anama non vi riesce adesso è l'oiacono che prova il disimpegno da indietro poi c'è subito un laggio lungo lancio lungo che sul quale si avventa caccia che appoggia di testa De Lucia adesso è Vitiello che cerca di impostare vede largo pesce che cerca di non far andare la palla fuori ma l'assistente il signor Raffaele Cecere alza la bandierina il pallone è uscito si riprenderà con una rimessa laterale per la puteolana c'è un però un errore da parte del terzino ospite quindi c'è un cambio palla quindi la rimessa è per il gladiator adesso non trova nessuno l'andolfo Spilabotte Vitiello ancora fa girare la palla per Manzi Manzi cerca l'imbeccata sulla sinistra per il numero sette di Paola che riesce a conquistare palla cross al centro non c'è nessuno e svetta Liccardi a mettere fuori poi non controlla la sfera il numero tre Lombardi e quindi ancora una palla fuori dal rettangolo di gioco ritmi non altissimi in questi primi nove minuti di gara il gladiator cerca di recuperare una palla vagante dopo un contrasto però c'è il fallo di De Rosa si riprenderà quindi con un calcio di punizione da parte della puteolana Rinaldi cerca il compagno di squadra in in area di rigore il numero sette manna però esce De Lucia e fa sua la sfera adesso c'è Manzi che sbaglia il passaggio Castagna la recupera per un attimo poi ancora il gladiator che rientra nel possesso di palla ancora Vitiello tutte le palle passano da lui Spilabotte dietro alla rifesa praticamente si ci prova col adesso Macicca un po' la palla la strozza un po' e quindi la sfera termina in sul fondo e si riprenderà con con una rimessa dal dal fondo posizione forse dubbia dell'attaccante sanmaritano che comunque ha preso alle spalle la difesa riparte la puteolana palla a centrocampo la conquista Castagna che poi la protegge cerca di andare via ma Lombardi subisce il fallo dopo aver rubato la sfera al giocatore all'esterno della puteolana l'arbitro fa ripetere ovviamente la battuta Manzi De Lucia rimette la sfera a centrocampo poi recupera ancora la puteolana il gladiator non riesce a venire fuori con le idee chiare poi c'è Vitiello che conquista un attimo poi c'è un fallo praticamente che prende tutte e due praticamente le gambe del Di Paola fallo subito da Di Paola ancora una volta l'arbitro fa ripetere la la battuta perché non si è rispettato il punto di battuta vanno a posizionarsi gli attaccanti nerazzurri sulla linea eh d'aria di rigore palla al centro poi nessuno ci arriva e c'è però calcio d'angolo c'è stata una deviazione c'è stata una una deviazione da parte di della puteolana quindi Spilabotte va a posizionare la la sfera sul calcio d'angolo Vitiello poi da da corto per Spilabotte mette al centro però esce Marino e fa subito ripartire la propria squadra quindi contropiede della puteolana con Gargiulo Gargiulo però eh non riesce a filtrare per la buona guardia eh di caccia il gladiator deve stare attento Domenico alle alle ripartenze della squadra della squadra ospite perché può far male con giocatori brevi linee molto veloci e proprio in questi in quest'ultima occasione eh l'allenatore Francesco Troise si è messo le mani diamo dei capelli eh anche se lui non ce li ha in testa perché eh era un'occasione eh che era una fase che si poteva sfruttare meglio e invece il numero due Canzano ha sbagliato il passaggio per manna ed è sfumata l'occasione infatti ora c'è il gladiator che ehm la palla però c'è un calciatore del del della puteolana a terra e il gladiator continua a giocare però anzi caccia eh si ravvede perché ha visto l'atleta che ora vediamo chi è dovrebbe essere se non sbaglio il numero undici dovrebbe essere Castagna ora comunque ci rendiamo conto eh eh sì a Marco bisogna stare molto attenti perché comunque la puteolana eh ha dimostrato in questo momento di poter fare male a chiunque e quindi eh anche oggi sarà una gara a viso aperto e comunque si vincerà con eh sulla forza dei nervi e della bravura sottoporta Spirabotti ha avuto un'ottima occasione per fare gol e doveva essere il suo primo gol in campionato invece ancora non arriva intanto Puccinelli ehm riconsegna palla al gladiator quindi bel gesto di fair play della compagine puteolana dopo che era caduto per terra Castagna in seguito a un contatto a un contatto di gioco ora ehm caccia per per pesce che riprende palla lo iacono che e caccia che un tiro molto molto forte ed esce alto sopra la traversa e attenzione perché questi tiri c'è queste diciamo questi alleggerimenti con il sole negli occhi potrebbero essere anche diciamo eh pericolosi per i portieri non solo non solo in come diciamo passaggi ma anche come retro passaggi ricorderemo tutti l'autogol di Materazzi in un famoso Evo l'Inter in cui nel fare un passaggio indietro la valla addirittura scavalca il portiere entra in porta ovviamente con le dovute proporzioni ci eh 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 ricolleghiamo all'eccellenza e quindi l'ingladiator riparte da eh con una un alleggerimento da parte di svela botte di di petto mette in movimento pesce che poi dà eh in mezzo per eh di Paola ma fa a buona guardia il numero cinque eh della Puteolana Liccardi che spazza via ancora il gladiator con Di Paola Di Paola cerca di desteggiarsi in mezzo a quattro uomini poi perde la palla Castagna di parte leggerisse verso Roghi che lo mette in movimento poi il controllo orientato in l'orientato non era facile per il giocatore Puteolana quindi il gladiator spazza adesso ancora spila botte sul fronte offensivo eh nero azzurro ma eh c'è poi un fallo eh da parte eh di Cerrato eh ai danni eh di Serone Riamo di eh Rinaldi anzi no di Loiacono c'è Puccinelli che riparte Gargiulo poi ah c'è per la palla per Roghi che al contatto eh eh cadi a terra ma poi si rialza per l'albito non c'è niente poi il gladiator recupera con vitello eh caccia subito mette in movimento di Paola il pallone troppo lungo eh e eh la palla poi termina eh tra le braccia del portiere Marino che subito fa ripartire con l'Iccardi i suoi poi eh palla per Puccinelli è fermato molto bene dal centrocampo nero azzurro adesso c'è eh Cerrato che mette in movimento pesce pesce alza lo sguardo mette una palla al centro troppo debole troppo bassa e e c'è la chiusura senza problemi da parte eh di Vincenzo Liccardi ricordiamo invece che Liccardi è ancora eh vittima di un infortunio alla spalla il Liccardi del del gladiator omonimo del giocatore qui in campo Vidiello ancora per pesce i due stanno giocando un'infinità di palloni così come caccia ancora pesce guarda al centro mette un pallone al centro eh in direzione del secondo palo pallalunga sul fondo quindi rimessa per la putiolana da bordo campo da fondo campo gladiator e putiolana che non devono perdere il passo delle delle prime eh della classe ricordiamo eh Afro Napoli United è frattese a tredici punti la fragolese non ha eh approfittato per eh l'aggancio anzi il sorpasso e quindi è eh seconda adesso a dodici punti insieme al al Giuliano questo è un girone molto difficile riserverà molte sorprese nelle nelle giornate avvenite perché ricordiamo in molti l'hanno eh debattezzata una serie di due questo girone a di eccellenza molte le squadre eh costruite per la vittoria ma ma anche blasonate con un certo ehm diciamo una certa tradizione calcistica alle spalle adesso spila botte sulla destra poi centralmente per Di Paola Di Paola eh si fa ribattere un un passaggio poi ancora spila botte cerca di andarsene due su di lui eh cerca di recuperare di proteggere la palla pesce poi eh indietro per Vitiello Vitiello per Di Paola di per ehm eh De Rosa poi eh una palla vagante in aria e eh con un po' di eh affanno la Pudiolana riesce a spazzare via in fallo laterale ancora Vitiello fa salire eh Viglietti eh allarga tutto per spila botto al volo in mezzo poi recupera e e gestisce bene eh la Pudiolana che spazza via il pallone poi c'è un fallo eh ai danni di caccia da parte di Rirochi quindi ci sarà ci sarà una punizione da parte del Gladiator Vitiello sul sul pallone il Gladiator sta cercando di di aggirare praticamente alle spalle la la difesa della Pudiolana da inizio eh gara ancora una volta Vitiello per eh il numero dieci Serrato Serrato che che praticamente fa partire il destro in due tempi c'è un po' eh c'è stato un po' di esitazione da parte di Marino quindi un'altra occasione quando siamo giunti al ventesimo esatto da parte di del Gladiator eh con eh Cerrato in due tempi quindi Marino con un po' di eccertezza eh a quanto pare eh la Pudiolana ha avuto un po' di problemi con eh gli estremi difensori perché hanno qualche volta hanno subito in questo campionato qualche gol di troppo evitabile il Gladiator eh riparte adesso Bitiello ancora pesce onnipresente il numero otto eh nero azzurro poi c'è la sponda da parte di Cerrato di Paola che mette al centro un un pallone sul quale Marino respinge e basso con i pugni anche perché non ci sono maglie nero azzurri eh nero azzurri fuori area di rigore quindi la eh Pudiolana riparte adesso cerca di mantenere la calma la la compagine di mister Troise ma c'è un passaggio anzi più che altro un controllo sbagliato da parte di un giocatore della Pudiolana quindi il il Gladiator riparte adesso Landolfo poi che pesce palla troppo alta per Di Paola adesso c'è la rimessa eh laterale e poi eh pallone che finisce di nuovo fuori forse eh con una deviazione sia il Gladiator riconquista la palla secondo il direttore di Gallo eh il Gladiator si cerca di distendersi poi c'è l'intervento di Canzano sul pallone che ferma eh il numero eh undici di Rosa eh Castagna cerca di andarsene adesso sull'auto di destra poi eh lo braccano in tre e cerca di di tornare indietro poi il numero eh otto Gargiulo che ancora per per Castagna per Roghi eh che fa la sponda ma è troppo eh corta la sponda e caccia riesce a far ripartire i suoi adesso c'è Cerrato che ha a campo davanti a sé eh alza la testa per vedere il posizionamento di De Rosa lo serve quindi sulla destra eh cerca di fare un doppio passo poi eh in due lo chiudono sul vertice destro dell'area di rigore eh Puccinelli può eh eh ragionare e far salire i suoi adesso eh Roghi che viene a prendere la palla sulla tre quarti poi innesca eh sulla velocità manna che non riesce ad arrivare e fa buona guardia eh il numero cinque eh caccia del Gladiator quindi palla che si mette sul fondo Lucia eh adesso rimette in gioco siamo giunti al ventitresimo minuto sul cronometro ancora zero a zero qui al Mario Piccirillo tra Gladiator e Puteolana millenovecento due Gladiator fa girare la la palla ancora caccia ancora un lancio lungo per innescare di Paola che controlla a seguire ma eh sì tra l'altro si ostacolano poi i due difensori della Puteolana ma la palla è fuori quindi eh il Gladiator usufruirà di una rimessa eh laterale dal dall'out di destra ancora una volta Landolfo si eh si occupa della rimessa poi eh c'è un recupero da parte di Puccinelli ma è bravissimo Vitiello a sradicargli la palla dai piedi e far ripartire ancora la squadra adesso Biglietti mette dentro la spira botte Marino ancora una volta esce prende il tempo a difensori e attaccante e e riesce a prenderla in maniera forse non ortodossa però ci riesce e questo è l'importante per la Poteolana che può adesso imbeccare Roghi che però con la palle con le palle alte soffre un po' la marcatura dei corazzieri della dei centrali quindi difensivi del del Gladiator ancora nessuna azione degna di nota eh per quanto riguarda la zona gol e la zona pericolosa da parte della Poteolana Pesce cerca di mettere in mezzo deviazione da parte di eh lo Iacono poi c'è arriva Pesce che eh cerca di sbrogliare la situazione con un tiro la soterra ma è troppo eh fuori misura ovviamente era era una c'era una selva di gambe sarebbe stato impossibile segnare da lì ma le squadre possono eh respirare adesso eh c'è Marino che va al rinvio dal fondo Puccinelli di Sponda per Castagna Castagna la dà indietro a lo Iacono poi ancora Puccinelli Rinaldi poi per eh Gargiulo poi eh Castagna cerca di ridarla Gargiulo ma eh il Gladiator con Pesce eh recupera ancora un lancio lungo per Cerrato che però eh era si era accorto di essere in posizione di fuorigioco e quindi non neanche scattato anche perché la palla era pure troppo lunga per poter intervenire l'Iccardi adesso cerca sulla destra Puccinelli che alza a campanile la cerca di recuperarla bianco ma eh la palla ancora una volta in fallo laterale Vitiello per Viglietti guarda i compagni preferisce servire accanto a sé la sfera a caccia che avanza cerca un movimento dei suoi poi se preferisce servire Landolfo che eh mette dentro per la pesce ma e Puccinelli a eh mettere in eh out ancora un lancio lungo lascia scorrere eh Liccardi e la palla quindi è preta di Marino Domenico volevi dire qualcosa? Eh Marco allora mh la partita è sostanzialmente equilibrata anche se comunque c'è il Gladiator eh che ha più il possesso della palla però eh tranne che sono state due circostanze in cui si poteva far male con Spilabotte e poi dopo con Cerrato però eh diciamo che ehm eh si vede che comunque a quel piglio a quel piglio che comunque di voler vincere la partita davanti ai propri tifosi che oggi hanno disposto in massa alla partita ora c'è cerrato da fuori tira e la palla è alta e eh la Puccinelli resiste eh quindi diciamo che ehm cerca di ehm la cittadina sta cercando in tutti i modi comunque di trovare anche una sua nuova fisionomia perché in quanto in questa settimana è cambiato l'allenatore ricordiamolo Francesco Truisi ha preso il posto di Francesco Ulivi eh dopo che eh domenica scorsa eh Ulivi si è nascito con delle parole un po' fuori luogo eh a fine partita e la residenza nella nella persona di Carmine Franco non ci ha pensato un secondo e infatti eh sono arrivate le 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 diciamo la eh l'esonero e poi comunque l'arrivo di Francesco Truise che è il fratello eh di Emanuele Truise l'ex calciatore del Napoli e anche Francesco comunque più giovane di lui e ha eh ha avuto delle esperienze con la Paganese nel settore giovanile anche nell'alto vicentino quindi comunque è un allenatore di una che ha una certa una certa esperienza e poi l'anno scorsa era il secondo la Vibonese di 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 Sasa Campilongo quindi eh sicuramente ha fatto buon ha fatto tesoro degli degli insegnamenti anche del l'ex attaccante bombe della Casertana dei dei tempi d'oro. Adesso però eh ritorniamo qui a giorni nostri e mh vediamo come andrà a finire questo eh primo tempo che ormai si è ehm è nella seconda parte del suo svolgimento pesce adesso recupera eh viene servito carica il sinistro ma eh Liccardi che si frappone eh poi eh è la putiolana che cerca di eh ripartire eh il numero sette eh Banna poi Gargiulo cerca di eh di di andar via con un numero poi il gladiato però fa buona guardia eh diciamo che eh ci sono eh il c'è la putiolana che spesso e volentieri sbatte sul muro dei centrocampisti eh che sono ovunque soprattutto vitiello e pesce eh del gladiator mentre invece il gladiato si affida più ai lanci lunghi e forse dovrebbe provare più a eh a giocare palla a terra eh per aggirare la difesa eh putiolana. Sì ehm agire sugli esterni con Di Paola che è una scheggia che messo in velocità mentre può fare danni alle scuole avversari lo ha dimostrato negli ultimi anni con tanti gol con la Fragolesi e con il Savoia l'anno scorso comunque ha fatto anche ha superato le quindici eh marcature e ed è stato uno vente delle delle vigivale bocche di fuoco insieme a vincenze a casa naturale e a Dino Fava Passaro. Ora occasione per il eh pura putiolana si gira il numero sette manna è eh di mestiere caccia lo ha toccato leggermente con la maglia e poi dopo viglietti si riuscì dò a divincolare infatti poi dopo ora persa però l'occasione la palla da parte di Cerrato eh Marco per eh parlavamo di pesce pesce è un ragazzo che sente molto questa parte perché proprio lui è di Pozzuoli è un putiolano doc e eh infatti eh comunque già fuori nello sfidatoio sta molto concentrato non vuole fare brutta figura davanti ai a a molti a molti concittadini e ehm lui insieme eh insieme a ovviamente a Bitiello e a De Rosa eh compongono questo a questa cornici centrale che ehm eh comunque deve forse eh invece di che cercare sempre il passaggio centrale come è accaduto molte volte in questa in questi frangenti con eh concentrato andare e uscire più sull'esterno e infatti eh se andiamo a pensare le occasioni migliori dei gradi sono usciti dall'esterno e ehm e eh comunque cospi la botte che oggi appare in giornata comunque sta in sta giocando bene ma se fosse se fosse arrivato il gol ovviamente eh San Nazaro avrebbe fatto bingo però eh stiamo ancora attendendo quello che il primo gol in campionato di Fofo eh eh diciamo che due le due squadre in campo non segnano tanto la Fidiolana fino in qui ha segnato sei gol eh e il gladiato cinque quindi è una partita diciamo da da se vogliamo metterla sul eh sulle scommesse però eh speriamo che eh possa riservarci qualche emozione in più adesso eh c'è eh 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 De Rosa o Cerrato Cerrato che si cercava di districarsi poi eh con la Pudiolana eh cerca di complicarsi un po' la vita poi esce eh diciamo bene ma eh la palla è infatti la sfera non era del gladiato Ravidiello voleva eh battere questa eh questa eh questa rimessa ma la palla è della eh della Pudiolana che conquista un po' più di campo poi palla se eh nella zona dove c'è eh eh Di Paola anzi eh De Rosa De Rosa che però perde palla eh c'è parte subito eh Roghi eh in contropiede cerca di puntare l'avversario ma caccia è lì presente ci mette il piede e intervento perfetto come sottolinea eh Domenico Bastante qui in postazione e Vitiello e Pesce possono ripartire per l'ennesima volta e Spilabotte si eh innesca poi torna indietro eh dopo la frapposizione di Pulcinelli poi c'è Pesce Vitiello Vitiello vede il da farsi ancora dentro per Spilabotte che mette la palla al centro di controbalzo eh De Rosa dietro Cerrato non può arrivarci per cifri frana addosso però in ehm con l'esperienza di Rinaldi che eh eh di testa praticamente spazza l'aria però poi dopo Cerrato ha subito un colpo alla nuca si alza il numero dieci eh nero azzurro quindi la palla eh è finita in in fallo laterale per l'ennesima volta e quindi si riparte con eh la sfera che viene riconsegnata eh così come in precedenza fatto dalla Budiolana dal Gladiator agli ospiti eh che ripartono con Marino poi eh Liccardi eh un pallone teso in avanti per eh Manna Manna cerca di superare Randolfo ma non vi riesce però una rimessa in una zona eh particolarmente pericolosa qui eh per eh gli ospiti allenati da Troise guarda e i compagni bianco poi serve poi recupera palla lo stesso numero tre però ancora una volta la palla eh eh è data lì dove non ci sono eh compagni di squadra che per fortuna poi recuperano e stoppano la ripartenza del Gladiator Canzano per Gargiulo poi Gargiulo dentro per Roghi che eh si eh praticamente eh elude la marcatura di eh Viglietti poi eh ancora caccia onnipresente spazza via resta a terra il giocatore un giocatore della Budiolana mani sul volto forse nella concitazione ha subito una manata il numero nove Roghi comunque non non sono stati rilevati estremi per una punizione alla Budiolana mentre adesso sì c'è una trattenuta ai danni di Gargiulo da parte di Lombardi quindi adesso c'è una punizione da una posizione molto molto pericolosa vertice eh sinistro dell'area di rigore si vanno a posizionare i saltatori sale anche il numero cinque Liccardi attenzione perché il numero cinque della Budiolana ha fatto male all'Alba Nova al novantaseiesimo nella scorsa partita consentendo ai eh agli ospiti di pervenire al pareggio non c'è ancora l'ok per battere la punizione da parte del direttore di gara il signor Palombo adesso va il numero sei Rinaldi che praticamente mette una palla bruttissima eh molto alta e quindi la palla eh si perde sul fondo sembrava più un piazzato di rugby dopo una meta e tu Marco ne sei un esperto? Eh beh non sveliamo gli altarini però diciamo adesso pesce può eh ripartire ma eh Gargiulo fa eh allunga la palla per Liccardi poi Rinaldi capitano Rinaldi si guarda attorno poi cerca di eh eh mettere in moto i suoi eh palla per Castagna che viene comunque contrastato da Vitiello Vitiello ancora una volta l'ennesima palla a fare da playmaker davanti alla difesa adesso chiama i suoi in movimento per eh palla per pesce che però eh non può essere veramente ovunque ha speso già tantissimo il numero otto eh nero azzurro poi c'è il calcio che se la porta porta avanti la palla in maniera egregia ma eh il duetto praticamente tra eh Landolfo e Spilabotte non riesce e per poco non ci scappava un pasticcio che poteva ehm essere praticamente eh favorevole alla Putiolana Puccinelli adesso viene praticamente steso da dietro da Landolfo palla ancora agli ospiti ai Granata Roghi finta se ne va sul Vitiello poi Spilabotte cerca di contrastarlo ancora uno due con Castagna poi Roghi tira e in due tempi eh ci arriva De Lucia trentasettesimo minuto poteva far male quindi primo squillo al trentasettesimo da parte della squadra eh ospite eh Pudiolana quindi che si affaccia per la prima volta seriamente dalle parti del del Gladiator il Gladiator deve stare attento non deve concedere occasioni agli ospiti perché possono far male abbiamo detto già in precedenza Roghi ha già segnato due reti in questo campionato e ed ha dei buoni numeri adesso c'è Pesce eh poi c'è Rato allarga eh per Spilabotte ancora il close al centro del numero a dove per eh di Paola poi c'è Pesce in sforbiciata c'è tenta la forse la soluzione più difficile e poi c'è eh il tiro da parte di di Paola mentre la difesa praticamente della Pudiolana si era fermata esterno rete del numero sette al trentottesimo quindi risponde il Gladiator di Paola in aria sull'esterno rete si era fermato praticamente anche Marino lo stesso Marino adesso va a rinvio dal fondo poi Roghi mette dentro la sfera per il numero sette Manna esce in presa De Lucia ad anticipare il numero sette Pudiolano adesso c'è Vitiello che può ancora ripartire guarda il piazzamento dei suoi vede il movimento di Cerrato cerca di eh di servirlo che eh praticamente supera Liccard Liccardi che meriterebbe un giallo dopo che se ne è andato il numero nove del Gladiator anzi il numero dieci del Gladiator Cerrato l'arbitro retarguisce soltanto verbalmente il difensore Granata adesso c'è un praticamente un corner corto per il Gladiator quarantesimo minuto siamo entrati nel quarantesimo minuto quindi cinque più recupero al termine di questa prima frazione di gioco Vitiello guarda i suoi tutti posizionati al centro c'è caccia che fa movimento poi ritorna indietro vediamo anche Cerrato smarcarsi palla al centro proprio per Cerrato e l'avevamo visto quindi gol di Cerrato al quarantesimo minuto quindi uno a zero per il Gladiator sesto gol della squadra in questo campionato e l'avevamo visto smarcarsi molto bene eh è sfuggito alle maglie della difesa eh adesso qui c'è l'abbraccio con San Nazaro sotto la nostra postazione quindi uno a zero per il Gladiator quando siamo entrati negli ultimi cinque minuti di gioco adesso subito la Pudiolano in avanti si spinge addirittura anche Liccardi che si scontra eh con l'altro numero cinque se non se non andiamo errati quindi con caccia c'è un una bella botta che hanno preso entrambi resta a terra il numero cinque San Maritano mentre ne approfittano i giocatori a bordo campo per bere quindi la rimessa toccherà alla Pudiolano infatti c'è Manna con la sfera tra le mani adesso Puccinelli la darà a De Lucia quindi si può ripartire Lombardi sbaglia tutto Castagna eh praticamente gli ribatte il pallone poi eh il numero tre si libera del pallone con un colpo di tacco per Biglietti che lancia subito verso Cerrato l'autore del gol ma lo iacono poi per Puccinelli dentro ancora caccia di testa di Paola messo giù eh da Cargiulo che prende palla e poi eh eh cerca di innescare Roghi ma non ce la fa eh eh prendere il pallone eh da eh nei confronti della difesa San Maritano e poi Spirabotte da dentro per Cerrate che si difende bene la palla poi Puccinelli eh lo ferma con un fallo e ancora una volta il gladiato può soffrire di una punizione ancora da una dalla zona della tre quarti venticinque metri più o meno sarà la distanza ancora Vitiello che cercherà di mettere la palla al centro vediamo infatti anche caccia che sale Biglietti che stazione si sta avviando al limite dell'aria anche pesce che è probabilmente il più alto della squadra sulla linea dei difensori schierati anche tutti gli uomini della puteolana in area di rigore praticamente ad eccezione dei due in barriera che sono un passo fuori l'area Marina il Marino cerca di istruirli per posizionarli al meglio Mitiello metterà al centro almeno così sembra palla dentro si scontrano due della puteolana ma c'era un fallo di eh cerrato sul numero otto Gargiulo si era liberato irregolarmente della marcatura di punizione per la puteolana quarantatresimo minuto siamo entrati eh quindi nel eh quarantaquattresimo di gioco tra poco vedremo quale sarà l'entità del recupero che non sarà proprio altissima adesso c'è Rinaldi che fa buona guardia con calma poi innesca eh il numero due Canzano che poi eh viene anticipato in fallo laterale dall'onnipresente numero quattro Vitiello ancora Rinaldi non vede compagni liberi allora è costretto a fermarsi poi cerca eh Puncinelli che spizza di testa Roghi di petto eh per Gargiulo Gargiulo rientra dietro poi c'è Pesce scivolata che recupera ancora e Spilabotte può ripartire fa distendere quindi il gladiator c'è la sovrapposizione di Landolfo ma lui si accentra e serve Vitiello Vitiello per eh di De Rosa ancora eh Vitiello per Pesce Pesce gioca di gambe poi eh Gargiulo eh gli eh toglie palle Castagna in velocità cerca di eh andar via in velocità poi si accentra ancora Castagna che poi viene anticipato dallo stesso Pesce nel momento in cui stava per calciare quindi ci sarà il calcio eh d'angolo per la per la Puteolana quasi al quarantacinquesimo quindi dopo questa battuta ci sarà eh il recupero va lo Iacono dalla bandierina anche qui tutti i saltatori della Puteolana sono lì in area di rigore Roghi cerca di mettere scompiglio sul primo palo si butta eh Castagna per la spizzata ma non riesce la deviazione e c'è eh l'angolo con eh se non andiamo errati De Rosa che ha rimesso in ruolo la palla eh oltre la linea di fondo ancora lo Iacono poi Roghi mette al centro c'è uno scontro lì al centro ma è ancora una volta De Rosa a mettere la palla fuori c'è eh però questa volta il fallo fischiato dal signor Michele Palomba di Torre del Greco che ha avvisato un'irregolarità nei confronti del giocatore San Maritano mentre poi è rimasto a terra proprio Castagna assieme anche a De Rosa c'è stato un uno scontro penso testa contro testa dei due giocatori vengono chiamati i sanitari di entrambe le squadre mentre siamo già nel primo minuto di recupero probabilmente eh si giocherà un'altra trentina di secondi perché poi non si è perso particolarmente tempo eh Domenico un gladiatore che ha trovato il vantaggio in un momento in cui la partita sembrava eh quasi essere eh una partita a scacchi no? E invece è riuscito a a sbloccarla su un calcio piazzato abbiamo detto più volte anche nella scorse partite che in questo campionato sono importantissimi anche i calci piazzati per andare in gol. Questi episodi hanno un'importanza notevole e il gladiato è riuscito a portarsi vantaggio con la tempestività di Cerrato che nonostante non sia un attaccante molto alto ha colpito ha preso il tempo all'avversario e ha messo la valle in rete sul suo assist dello specialista che è Anillo Vitiello e eh Marco il gladiato comunque proveniva da momenti eh in cui ehm erano vicino a rete e ricordiamo il tiro di di Paola che è finito sull'esterno della rete ed anche ehm poi dopo pochi minuti prima la girata di eh di dico la specie però è una partita molto aperta infatti eh è l'occasionissima l'avuta prima la putolana con Roghi che ha scambiato con Cassagna dal limite e questo tiro forte che poi ha eh adesso di lui c'è stato molto bravo a a bloccare eh ormai ci diciamo ci apprestiamo alla fine del primo tempo eh il sostanzialmente il vantaggio è meritato per il Marco ti lascio la parola per le ultime battute quindi come diceva Domenico vantaggio meritato per il gladiator che ha saputo trovare ricordiamo al quarantesimo la rete con Cerrato su una punizione battuta da Vitiello ha fatto praticamente il numero 10 San Maritano un movimento che cestisticamente parlando si chiama backdoor anticipato quindi da dietro il difensore da solo ha messo la palla alle spalle di Marino quindi 1-0 per il gladiator qui a Piccirillo e noi ci risentiamo per il secondo tempo della gara tra gladiator e Puteolana 1902 allora siamo qui ritornati dallo stadio Mario Piccirillo per il secondo tempo della partita tra gladiator e Puteolana ricordiamo il gladiator in vantaggio per 1-0 due cambi per la Puteolana e uno per il gladiator entra con il numero 18 Di Pietro ed è uscito De Rosa con il numero 11 mentre invece vediamo Dadamo e Serrano per la Puteolana che fanno il proprio ingresso in campo adesso dovremmo capire un attimo al posto di chi sono entrati pensiamo Puccinelli e il numero 8 Gargiulo no c'è Gargiulo vediamo un attimo forse lo Iacono sì infatti mi dicono lo Iacono quindi adesso siamo partiti per questo secondo tempo subito Dadamo tocca il suo primo pallone ma invece Puccinelli c'è quindi è uscito praticamente Liccardi il numero 5 Liccardi e Puccinelli praticamente è stato arretrato sulla sulla linea difensiva Castagna invece sì ha un una vistosa vasciatura per lo scontro con De Rosa a fine primo tempo il numero 11 San Maritano è stato anche sostituito per precauzione non ci spieghiamo però questo cambio tattico che Rinaldi al suo fianco non ha più Liccardi ma Puccinelli adesso c'è Roghi che cerca di andare via finta ai danni di Lombardi poi di Pietro recupera il il pallone adesso Rinaldi tra tre avversari se ne va via Castagna eh Spunta Lombardi lo dà e poi c'è anche il recupero del numero 3 San Maritano che spazza via poi c'è eh Di Pietro che cerca di conquistare il fallo eh si tiene la sfera tra le gambe poi eh eh Canzano eh praticamente eh guadagna una rimessa laterale si porta la palla fuori Cargiulo quindi il campo è finito rimessa per il Gladiator ancora un fallo di Vidiello su Roghi posizione ai 25 metri stiamo nel terzo minuto della ripresa sulla sfera ci sono D'Adamo e Rinaldi probabilmente batterà il numero 15 adesso l'arbitro conta i passi per la distanza della barriera barriera a 4 per il Gladiator si attende il fischio che arriva adesso è D'Adamo che si in carica della battuta palla al centro Roghi cerca un passaggio dentro poi ancora eh D'Adamo eh ribatte la difesa San Maritana spila botte mette a terra la palla cerca di andarsene da due avversari se ne va di forza poi supera anche D'Adamo eh si ferma eh e ancora mantiene la sfera che poi gli ruba Gargiulo eh in base Serrano allunga la sfera per eh Castagna Castagna viene trattenuto da dal Lombardi poi c'è il fallo di di pesce che è arrivato eh in maniera ovviamente ha spostato letteralmente il numero 11 eh della Budiolana eh della Budiolana ancora una posizione una posizione della posizione interessante per gli ospiti il gladiator non riesce a venire eh fuori da dalla propria metà campo in questo ultimo minuto e mezzo ovviamente la Budiolana è la ricerca del pareggio le sta portando le stanno provando tutte quelli dello staff della Budiolana doppio cambio ad inizio ripresa adesso è Gargiulo che cerca di di un compagno libero guarda al centro si attende il fischio parte il cross del numero 8 della Budiolana svettano tutti pesce arriva la palla e la mette all'indietro c'è Cerrato che ha problemi col controllo poi dopo viene fermato da bianco poi Rinaldi cerca il tiro ma adesso c'è Gargiulo che invece prende il tempo a Lombardi e con il destro cerca di mettere in difficoltà De Lucia che arriva e fa una compie un intervento molto importante per sventare il pareggio della squadra ospite ancora Gargiulo dalla bandierina D'Adamo viene anticipato poi riparte il gladiator con il numero 7 di Paola la palla arriva Cerrato in qualche modo ancora Cerrato che la Darri Paola che entra in area di rigore in area di rigore si fa Pone Canzano poi palla al centro c'è il numero 10 Puccinelli che ricordiamo è arretrato sulla linea dei difensori per l'uscita di Liccardi quindi mossa tattica un po' a sorpresa c'è un intervento abbastanza duro da parte di Manna se non andiamo errati sul numero 2 Landolfo che resta a terra quindi punizione per i Nerazzurri settimo minuto della ripresa gladiator ancora in vantaggio per 1 a 0 grazie alla rete messa a segno da Cerrato al quarantesimo adesso è Landolfo che sbaglia un appoggio quindi la Puteolana può ripartire con una rimessa laterale si fa vedere da Damo ma preferisce il lancio lungo il numero 3 bianco poi c'è un fallo di mano da parte di Serrano arbitro se ne accorge e assegna la punizione al gladiator Manna va a recuperare palla per non perdere troppo tempo Vitiello guarda i compagni cerca di aprire e quindi imbecca Lombardi sulla sinistra poi al centro per la sponda di di Paola di Pietro non riesce a mettere la palla in mezzo e poi c'è il fallo conquistato da Canzano Gargiulo da Damo si cerca di difendere il pallone dal ritorno di Pesce che non commette però fallo poi sono tre i giocatori del gladiator di Paola conquista palla si accentra fa partire il destro che finisce fuori si è fatto male un giocatore del gladiator ci sembra Pesce a terra Sanitari in campo Pesce che tra l'altro è rientrato da un infortunio proprio qualche partita fa se non la scorsa partita di campionato no Domenico si è tornato da poche giornate infatti ora lui si tocca la spalla perché ha proprio paura di farsi male nuovamente dallo scorso anno che comunque nella finale playoff con la fragolese che si dice male ha bitonto e ora però vediamo che torna in campo si mantiene sempre ed ecco c'è rato il tiro e il palo palo del gladiator il grande scambio da Di Paolo è Cerrato Cerrato che di sinistro è andato con tutta la sua forza e la palla sul primo palo ha colpito il palo e poi dopo Rinaldi è stato a rilanciare però Marco il gladiator dopo l'occasione avuta da Gargiulo subito ha replicato si prima con Di Paolo adesso con Cerrato che dobbiamo dirlo è il più pericoloso a questo punto della squadra nell'azzurro non solo in virtù del gol siglato ma anche del montante colpito in questo momento poi c'è in questo momento Di Paola che non riesce a tenere la sfera in campo secondo il primo assistente del signor Palomba signor Raffaele Cecere di Caserta ricordiamo il guardalinea quindi rimessa per la Pudiolana Pudiolana che è partita bene ma il gladiator ha risposto colpo sul colpo adesso c'è Cerrato ancora che recupera la sfera gli frana addosso il giocatore della Pudiolana il numero 6 Rinaldi il capitano e c'è c'è il rigore non riusciamo a capire l'arbitro si abbia fischiato il rigore o no c'è c'è un'ammunizione forse per simulazione perché vediamo sbracciarsi Rinaldi quindi c'è l'ammunizione per Rinaldi quindi è calcio di rigore è calcio di rigore per il gladiator siamo al dodicesimo minuto Cerrato ha recuperato la palla ci ha creduto ha avuto praticamente il ritorno di Rinaldi che gli è praticamente franato addosso protesta il capitano della Pudiolana in realtà ci sembrava almeno dalla nostra posizione che il fallo ci fosse però l'arbitro è l'unico giudice quindi ha deciso così non c'è il VAR in queste categorie Di Paola contro Marino non stiamo per entrare sta per finire il dodicesimo minuto della ripresa il gladiator all'occasione con Di Paola dal dischetto calcia il numero sette nera azzurro e c'è il gol quindi due a zero per il gladiator abbracciato da tutti i compagni va anche Liccardi che era a bordo campo ad abbracciare il compagno di squadra due a zero per il gladiator al cinquantottesimo minuto aveva anche intuito la direzione della sfera Marino ma il numero sette del gladiator l'ha piazzata bene quindi non ne è servito il buon posizionamento il buon tuffo del classe duemila della Puteolana va a doppio dei San Maritani ammutoliti per un attimo i giocatori dei supporters della Puteolana che avevano preso fiducia dopo il buon avvio della partita adesso c'è il fallo dovrebbe esserci l'ammunizione ma l'arbitro non 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 concede praticamente il fallo tattico concede un beneficio al giocatore della Puteolana quindi resta solo Rinaldi ammunito un gladiator che però non usufruisce di questa punizione può riprendere l'azione con una rimessa laterale recupera la Puteolana che però concede la palla al Vidiello c'è un intervento scomposto di Canzano che rischia grosso infatti si prende l'ammunizione per un fallo su Vidiello fallo inutile tra l'altro fuori tempo forse i nervi sono saltati dopo il gol ci doveva essere anche in precedenza tra l'altro un'altra ammunizione per un fallo su un giocatore sammaritano è una trattenuta molto evidente l'arbitro in quella circostanza aveva graziato un giocatore ospite adesso invece sotto gli occhi del direttore di gara Palomba si è consumato questo fallo sono inutili le proteste per una rimessa laterale che probabilmente è stata contesa e contestata anche dai giocatori Granata Vidiello ispila spila botte cross con il sinistro c'è la palla che arriva cerrato la palla è andata sul era è andata è andata in rete probabilmente calcio di rigore per un intervento con le mani di un difensore che non ci siamo accorti c'è ancora una protesta abbiamo visto subito sbracciare i giocatori del gladiator c'è l'espulsione per non riusciamo a capire forse cargiù no c'è vediamo chi è che si sta allontanando forse numero 7 manna ma non ne siamo sicuri non riusciamo a vedere il numero del del giocatore anzi è il numero 3 è il numero 3 bianco espulso quindi al sedicesimo minuto del secondo tempo c'è un nuovo rigore e adesso c'è spila botte contro marino parte il numero 9 san maritano e ancora nello stesso angolo di di paola e sono 3 i gol del gladiator 3 a 0 al 60 duesimo minuto ricordiamo rigore viziato da un fallo di mano sulla linea di bianco che è stato nell'occasione anche espulso dal direttore di gara su segnalazione dell'assistente adesso c'è un cambio della putiolana esce con il numero 7 man ed entra 17 famiano gladiator quindi si porta sul 3 a 0 tutto in praticamente 5 minuti di paola prima e poi spila botte dire che la putiolana aveva cominciato bene questa ripresa cerrato si è dimostrato il più pericoloso perché ha assegnato poi ha proviziato i due rigori adesso c'è di pietro per vitiello vitiello allarga per landolfo poi di paola si ferma da ancora indietro a vitiello adesso deve gestire ovviamente non deve correre rischi perché il risultato potrebbe essere messo in cassa forte poi caccia serve al centro cerrato che non arriva rinaldi respinge di testa poi può ripartire la putiolana roghi lascia passare il pallone poi si gira benissimo in un fazzoletto di campo e ce ne va ancora con un gioco di cambio a vitiello poi è di pietro che commette fallo roghi batte subito ma il direttore di gara fa ripetere perché il punto di battuta non era quello adesso c'è Nicola Ceglio che si prepara a bordo campo per il secondo cambio nero-azzurro sul punto di battuta ancora una volta Gargiulo che praticamente è l'uomo deputato per la putiolana a battere i calci da fermo mette al centro un pallone cade un giocatore della putiolana si è lasciato probabilmente un po' cadere da da Damo De Lucia fa sua la sfera si riparte da Caccia Caccia in avanti per Di Paola che mette in movimento Pesce Puccinelli recupera e dà indietro a Marino che coi piedi però serve Di Paola Di Paola viene anticipato ma poi recupera palla Cerrato a tu per tu con il portiere e la mette lì la piazza alle spalle del portiere e ancora c'è una volta Cerrato che praticamente sfrutta un assist dopo un passaggio sbagliato da parte della putiolana siamo al sessantacinquesimo minuto quindi gladiator 4 putiolana 0 e l'avevamo detto prima Cerrato è l'uomo praticamente che quest'oggi ha dato più grattacapi alla retroguardia della putiolana adesso entra Nicola Celio esce pesce sessantaseiesimo minuto quindi questa sostituzione la seconda per Giovanni Sannazzaro quindi partita definitivamente chiusa a questo punto anche se mancano 25 minuti 23 minuti adesso al termine del match riparte quindi la la putiolana Rinaldi attenzione al pressing di Cerrato Puccinelli nell'inedito ruolo di centrale difensiva allarga tutto a destra per Serrano che però è partito in posizione irregolare Di Pietro adesso nella zona mediana del campo va dietro serve Viglietti che allarga per caccia il gladiator non cerca di gestire continua ad andare avanti con sovrapposizione con con la ricerca degli attaccanti adesso c'è un un passaggio un po' avventato di Ceglio recupera però per caccia adesso Marino caccia lancio lungo per Di Paola ma la sfera termina in fallo laterale il gladiator fin qui aveva segnato quattro gol che cinque gol adesso ne ha segnati quattro quindi un exploit anche in virtù dei due rigori però i rigori ovviamente una squadra li deve cercare li deve ottenere deve attaccare per ottenerli il gladiator l'ha fatto era partita bene alla putiolana poi c'è stato praticamente in meno di dieci minuti tre gol della squadra di Giovanni Sannazzaro che ha definitivamente chiuso anche se virtualmente a meno di clamorosi accadimenti e di un miracolo ha chiuso praticamente il match Puccinelli adesso Granata da indietro a Rinaldi da Damo fallo di Vignetti che entra duro alle spalle del giocatore con il numero quindici subentrato ad inizio ripresa ancora adesso la putiolana in avanti Serrano non riesce a servire Famiano il gladiator recupera l'Andolfo adesso palla a Di Paola adesso dietro per Biglietti gira per Di Pietro la sfera poi Spilabotte ancora Di Pietro Vitiello adesso si che il gladiator fa un po' di melina anche giustamente Celio Andolfo adesso cerca Di Paola Di Paola si fa sempre vedere è sempre un punto di riferimento per i per i compagni poi di Vitiello ancora Di Pietro Vitiello ancora Spilabotte per il numero tre Lombardi alza la testa cerca il close ma poi dopo da Vitiello che con un sombrero si alza la sfera poi dribbla degli avversari palla sul sinistro e la palla va di pochissimo alta sulla trasversale della porta difesa da Marino quando siamo giunti al venticinquesimo minuto quindi percussione di Di Pietro sinistro sinistro alto sul secondo palo il gladiator non rinuncia a giocare adesso adesso roghi roghi cerca di lanciare la velocità di granata esce De Lucia che riesce a salvare in qualche modo il gladiator si salva quindi pericolo per i sanmaritani adesso Vitiello Celio Verosa ancora una volta Di Paola ancora una volta cerca di mettere ordine adesso Celio poi Caccia Lombardi per Spilabotte Di Pietro ancora Spilabotte poi Vitiello Cerrato ancora Vitiello per Celio sulla destra di Paola ancora Di Pietro terminabile trama di passaggi per i sanmaritani Spilabotte per Cerrato Cerrato che probabilmente lascerà il campo per una standing ovation mentre vediamo che si prepara un altro under il numero 16 Bottigliero per il Gladiator o Landolfo Lombardi quindi potrebbero uscire la palla finisce in fallo laterale di الذia ridica che c'è un po' di si lotta con tra i due numero di 17 Famiano e Celio il direttore di gara decide per un calcio di punizione per la Pudiolana che è già battuto adesso Rinaldi per Puccinelli cerca ancora qualcuno quindi è consueto a tornare indietro da Marino che guarda ancora i compagni lancia la sfera praticamente dove non c'è nessuno in fallo laterale e probabilmente adesso ci sarà il cambio uscirà forse il numero 3 entra con il numero 16 esce invece il numero 2 Landolfo siamo giunti al 28esimo minuto buona partita per il numero 2 Nerazzurro entra quindi il numero 16 Bottigliero che andrà a prendere proprio il posto del numero 2 San Maritano battuta male questa rimessa Gladiator perde palla ci accingiava ad entrare nell'ultimo quarto d'ora dell'incontro siamo nel corso del 29esimo minuto del secondo tempo D'Adamo dopo la sponda di Granata cerca il numero 18 Serrano ma il controllo non è dei migliori palla recuperata dai San Maritani poi Pudiolana che riparte con Puccinelli che cerca di nuovo un compagno in avanti Caccia poi da accedio di testa poi preziosismo di di Paola che serve di nuovo il numero 17 San Maritano Vitiello cerca di ripartire poi dopo impartisce praticamente lezioni al compagno di squadra direttive più che altro Caccia serve il numero 3 Lombardi che però combi un fallo di mano quindi la Pudiolana soffrisce di un calcio di punizione riparte quindi dalla difesa si scambiano il pallone Puccinelli e Rinaldi poi il lancio lungo dell'ex Gladiator che vede l'innesco del numero 18 Serrano ma che viene fermato dall'attenta difesa dei nero-azzurri che quest'anno giocano con una maglia praticamente non più a strisce ma con due sole bande azzurro e nere questo Famiano serve Roghi Roghi se ne va entra va sul fondo mette la sfera al centro e dovrebbe essere Viglietti che mette in calcio l'angolo quarto angolo per la Pudiolana vada vada Damo a battere questo tiro dalla bandierina cerca un compagno al centro la mette al centro a rientrare non ci arriva Serrano poi il Gladiator riesce a recuperare con Spilabotte Spilabotte per il numero 4 Vitiello Vitiello cerca Di Pietro avanza di Pietro poi l'Adà ha cerrato ancora di Pietro indietro per il numero 3 Lombardi poi Viglietti ancora indietro per De Lucia si allarga quindi il gioco anche se in maniera molto lenta perché il Gladiator deve amministrare è conscio di avere 4 gol di vantaggio sulla Putiolana poi Famiano cerca da Damo che commette fallo su Di Pietro che se n'era andato 32esimo minuto rimasto a terra il numero 18 San Maritano probabilmente avrà bisogno di cure infatti così colpo alla caviglia per il numero 18 ritornato quest'anno all'ombra dell'anfiteatro dopo una felice parentesi sia in eccellenza sia in serie D al tempo del Gladiator che fu definito dei record con 31 risultati utili consecutivi tra Coppa e Campionato fallo subito nel cerchio di di centrocampo ricordiamo un attimo i gol con la doppietta di Cerrato al quarantesimo al sessantacinquesimo poi al cinquantottesimo rigore trasformato da Di Paola e al sessantaduesimo il rigore messo a segno dal numero 9 del Gladiator Spilabotte quindi due rigori per il Gladiator e in occasione del secondo rigore c'è stata anche l'espulsione per un fallo di mano sulla linea di Bianco che si era interposto così al tiro ancora una volta di Cerrato che in un'altra occasione aveva addirittura preso il palo quindi ci sentiamo di definirlo come si suol dire ombre del partito del partito o MVP di questa gara Miglietti adesso muove la sfera verso Caccia avanza il numero cinque poi da Bottigliero Di Paola poi Spilabotte che tocca male ma poi c'è Celio che recupera la palla ancora Spilabotte di nuovo Celio ritorno di Granata che gli soffia la palla poi da Damo che serve un compagno poi dopo c'è Rinaldi Rinaldi per Puccinelli Puccinelli va ancora dietro per il numero sei il capitano della Putiolana ancora Puccinelli esce a palla al piede poi cerca di servire un compagno sulla sinistra poi è Famiano Rinaldi guarda la corsa di lo sprint di Gargiulo ma la palla è troppo lunga quindi si ripartirà con una rimessa laterale da parte del gladiator mentre a bordo campo c'è si prepara il numero 20 Capo Bianco quando siamo giunti al trentacinquesimo minuto quindi ultimi dieci minuti per Capo Bianco che va a sostituire ovviamente Cerrato che si gode un po' di meritato riposo due gol un palo e due rigori conquistati sicuramente il più incisivo della formazione sanmaritana in questa partita quindi standing ovation per lui adesso c'è in campo Capo Bianco per gli ultimi dieci minuti di gara più eventuale recupero adesso rimessa laterale per la Pudiolana di cui si occupa Vitello Roghi mette a terra la sfera poi la stratica praticamente di Pietro che poi perde palla da Damo mette in movimento Granata che poi si ferma Roghi in mezzo a tre avversari se ne va in dribbling questo è un ragazzo che è comunque a due colpi è l'ultimo ad alzare bandiera bianca per quanto riguarda i putiolani poi viene fermato in fallo laterale quindi Putiolana che guadagna metri ancora Gargiulo per Roghi bel tunnel ai danni al numero tre Rombardi poi spazza di Pietro Sfilabotte poi può ripartire dopo la sponda di Capobianco guarda la corsa di Capobianco che riesce a prendere la palla c'è il palo c'è il palo dopo aver superato il portiere palo di Capobianco all'ottantaduesimo non è riuscito a dare forza alla palla ma è bellissimo l'assist di Sfilabotte di esterno destro è un'occasione quindi sciupata da Capobianco purtroppo nella corsa non è riuscito a dare forza e precisione alla sfera adesso Roghi in attacco c'è forse una deviazione con il braccio da parte di Viglietti ma l'arbitro reputa del tutto involontario il tocco del numero 6 San Maritano ci sono le proteste dei putolani ma si riparte con la sfera tra i piedi del gladiator ancora caccia spizzata di Celio in avanti non c'è nessuno Puccinelli rientra e dà indietro a Marino Marino poi Rinaldi Rinaldi si ferma cerca uno scavino poi per D'Adamo che mette a terra con un po' di difficoltà subito Vitiello a soffiargli il pallone Di Pietro Capobianco gira con la suola praticamente verso Di Paola che viene però anticipato da Puccinelli ancora una volta Rinaldi tutti i palloni adesso stanno andando sui suoi piedi per qualche lancio per gli esterni infatti vediamo molto largo Granata e Serrano Puccinelli ancora una volta Rinaldi cambia gioco per Famiano che però viene contrastato da Celio può ripartire il gladiator con Di Paola Di Paola serve Di Pietro Di Pietro mette a terra e avanza vede i compagni poi allarga l'ultimo per Capobianco tenta il tiro a giro da fuori aria alto sulla traversa quindi ancora una volta pericoloso il neo entrato San Maritano siamo al trentanovesimo minuto continuano a cantare per te e poi vediamo la variata e per tutta la partita si sono fatti che si vedono per niente Roghi se ne va ancora una volta con il tacco bravissimo questo ragazzo l'avevamo detto già ad inizio partita gran lancio per Granata che cerca di puntare Buttiglieri si va Castagna e prende una traversa piena traversa di Castagna che avrebbe meritato per il numero e anche per tutta l'azione la putiolana avrebbe meritato qualcosa in più un gol della bandiera il risultato è ancora di 4 a 0 quindi non è riuscita la formazione di Troisi a trovare almeno il gol della bandiera adesso si addirittura sulla linea di fondo campo ha perso campo la putiolana ma esce Rinaldi a larga per Puccinelli che dà ancora una volta largo per Famiano Puccinelli Canzano Canzano serve Roghi e ovunque negli ultimi minuti negli ultimi minuti questo numero 9 due gol in campionato per lui ricordiamo la putiolana aveva subito quattro gol fino adesso poi ne ha subiti quattro in una sola gara sfortunata anche la 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 formazione del neotecnico Troise che è subentrato in settimana ricordiamo Adulivi adesso si prepara alla quinta sostituzione il gladiator sta per entrare Canale Di Pietro intanto Spilabotte che sale al centro campo praticamente Vitiello di prima per Di Pietro che sbaglia l'appoggio Granata recupera la palla ma poi c'è Vitiello che ritorna su di lui ancora energie al quarantaduesimo minuto il numero quattro del gladiato Bottigliero si ferma la zona con Celio poi caccia ancora Celio si appresta anche alla sostituzione la putiolana entrerà Catalano Vitiello dietro per caccia che serve di Pietro libero nel cerchio di centro campo mette a terra Di Paola che scambia con Spilabotte 1-2 ancora Di Paola se ne va in percussione poi cerca un servizio per Capobianco Puccinelli di petto praticamente riconquista la sfera e può ripartire la putiolana da Damo adesso in posizione arretrata lascia Rinaldi che chiama in causa Marino all'arca per Puccinelli poi Cargiulo si va a prendere la palla ai limiti dell'area di rigore se ne va in dribbling il numero 8 che è sembrato anche lui un elemento estremamente positivo di questa formazione che verrà superata dal gladiator quindi in classifica resterà ad otto punti palla fuori e c'è la sostituzione uscirà Castagna quarantatresimo minuto quindi altra sostituzione la quarta per entra canale ed esce un altro dei migliori in campo per il gladiator esce Vitiello accompagnato dall'applauso sia dei distinti che della tribuna numerata saluta il pubblico Vitiello su ogni seconda palla c'era lui su ogni tentativo di impostazione sia nel primo tempo che nel secondo c'è stato anche lui inesauribile fino all'ultimo all'ultimo secondo del gioco della sua partita adesso la Putiolana ci prova ancora con Canzano ma la palla finisce fuori dal rettangolo di gioco canta e salta la brigata Spartaco sotto la nostra postazione gladiator quattro Putiolana zero siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco salvo recupero ovviamente gargiulo per famiano poi da d'adamo c'era palla rinaldi gargiulo cerchio di centrocampo contrastato da canale ancora gargiulo non trova compagni poi serve roghi che si è liberato roghi mette valla a terra cerca un compagno ma c'è canale che riconquista poi spila a botte cerca di servire di piedo da d'adamo entra famiano ancora per il numero 13 catalano fa i puccinelli palla praticamente servita a spila a botte che però perde il tempo e la palla brutto controllo poi c'è gargiulo che dà a d'adamo roghi in posizione molto arretrata cerca di superare celio non ci riesce gli toglie il pallone il numero 17 capobianco poi serve di pala che si ferma ancora cerca di servire capobianco ma interviene da d'adamo e poi famiano in qualche modo riesce a conquistare un calcio di punizione d'adamo per rinaldi siamo siamo già al quarantaseiesimo minuto non c'è stato segnalato il recupero quindi pensiamo che al massimo l'arbitro concederà dato anche il risultato un paio di minuti di recupero oltre a quello che già è andato via non abbiamo visto segnalazioni di recupero rochi cerca di liberarsi al limite dell'area canale fa sua la sfera poi di pietro che ha praticamente conquistato i gradi di capitano dopo l'uscita del campo di vidiello poi capobianco ancora di pietro spila botte canale ancora spila botte palla indietro per viglietti viglietti allarga tutto per caccia ancora caccia di paola mantiene la sfera adesso la puteolana ovviamente è ammollato definitivamente accenno di pressing ma il gladiator fa girare la sfera caccia ancora poi celio di paola di paola servizio per di pietro che a campo davanti a sé cerca di servire spila botte che però non si intende con il compagno di squadra palla troppo lunga applausi del numero nove alle intenzioni di vitiello di pietro scusate ci apprestiamo quindi a vivere gli ultimi secondi di gioco probabilmente ci sarà tempo per un'ultima azione siamo già quasi al quarantottesimo minuto ma palomba non accenna mettere a portare il fischietto alla bocca e adesso lo fa e quindi arriva il triplice fischio con tre minuti di recupero il gladiator si impone quattro a zero sulla puteolana con i gol di cerrato al quarantesimo al cinquantottesimo di di paola sul rigore al sessantaduesimo di spila botte sul rigore e ancora al sessantacinquesimo di cerrato quindi un secondo tempo in cui in dieci minuti praticamente il gladiator è stato mortifero per i granata il gladiator che con questa vittoria allunga la striscia positiva a tre partite quindi con sette punti in tre gare sale a dieci punti e scavalca proprio la puteolana e e quindi praticamente continua la striscia positiva per il percorso di crescita della squadra di Giovanni Sannazzaro tutte le adesso i giocatori si danno la mano al centrocampo il gladiator festeggia questa meritata vittoria con un sonante poker e noi per quanto ci riguarda mentre i samaritani salutano i propri ultras per quanto ci riguarda dicevamo vi diamo appuntamento alla prossima gara interna del gladiator e vi invitiamo a restare sintonizzati sia sul telegolfo e di seguire ancora tanti numerosi sportegasertano.it da Marco Falco è tutto e anche da le riprese di Mario Scalino a voi tutti una buona serata